L'horror sudcoreano arriva in Italia nei primi anni del nuovo millennio, sull'onda del successo dell'horror nipponico, Ringu di Hideo Nakata in particolare. Ma i titoli, Fawn Dread Shoes, vengono distribuiti in maniera quanto mai distratta, tanto per riempire i listini e soddisfare la voglia di horror di un pubblico sempre più di nicchia. Venature horror, però, si possono trovare anche nell'opera di autori conclamati, quali Kim Ki-duk, Park Chan-wook, Bong Joon-woo, che gira un vero monster movie di Host prima del successo con Parasite. Perché la paura, la violenza, la tortura psicologica, l'anaffettività che ne consegue sono componenti che il popolo sudcoreano, una volta liberato dalla dittatura, ma con un altro regime incombente al confine, cerca di esorcizzare attraverso le storie e il cinema. Ne parliamo con Roberto Lasagna, storico e critico cinematografico, autore di libri su Steven Spielberg, Walt Disney, Kubrick, Martin Scorsese, Nuo Cinema Greco, Nuo Cinema Cileno, Nanni Moretti, David Cronenberg, curatore di volumi collettani sul cinema di Richard Lester, su Wes Craven, e di questo Corea Shock, il nuovo cinema horror della Corea del Sud, edito da Profondo Russo. Questo è Decisione Critica, il podcast di PyGreco M. Io sono Rosario Gallone. Buongiorno a Roberto Lasagna, grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questa puntata di Decisione Critica. Grazie Rosario, grazie a voi cari amici, in realtà è un grande piacere, ho accettato con molto entusiasmo di essere parte di questo momento da voi creato per valorizzare la critica e le sue evoluzioni. Sì, a questo proposito mi fa piacere, come ci dicevamo, che in questo libro Corea Shock, edito da Profondo Russo, tu abbia coinvolto un frequentatore dei nostri seminari, Andrea Amadori, e mi dà appunto l'idea di una continuità tra il lavoro formativo, didattico e quello professionale. Sì, Andrea con la sua passione è sicuramente uno delle linfe importanti di questo libro, che fondamentalmente si nutre della collaborazione di tanti critici affermati o comunque critici che hanno a cuore l'argomento. In questo caso Andrea Amadori è sicuramente sul mondo coreano, ma non soltanto, uno sguardo appassionato, sentito e molto competente. L'idea di Corea Shock, cioè del cinema horror, del nuovo cinema horror della Corea del Sud, come vi è venuta? Immagino che sia un'idea collettiva, semmai. Guarda, l'idea è nata un po' spontaneamente, nel senso, inizialmente l'idea era di realizzare un libro sul cinema sudcoreano, considerando il fatto che un po' tutti coloro che hanno partecipato al libro hanno una propria idea del cinema sudcoreano, ma è tante volte filtrata anche da un film horror o prossimo all'horror. Ma insomma è stata quasi una scelta spontanea, naturale. Parlare di nuovo cinema sudcoreano, ci ha dato la possibilità di parlare del nuovo cinema horror to cure, declinandolo in quella parte particolare di mondo, dove si affacciavano molte ipotesi, molte anche spaccettature. Infatti il libro ha, come dire, una dimensione selettiva, sono stati scelti alcuni autori, alcuni film, sottolineando sia le differenze, ma anche le continuità tra i generi, appunto tra il melodramma e l'horror, tra il noir e l'horror. Per cui, come dire, è una mappa molto personale, molto soggettiva, soggettiva nel senso proprio che siamo passati attraverso il punto di vista personale che va a comporre una sorta di quadro mosaico di una cinematografia molto vasta, molto di successo, ma anche tutto sommato ancora da scoprire e da valorizzare. Per cui l'idea è stata spontanea, quasi come una necessità da colmare attraverso questo saggio che vuole essere approfondito, ma introduttivo. Per cui senza il compito di essere esaustivo, perché avrebbe richiesto una mole di lavoro ancora più intensa, ma con, credo, l'idea di essere essenziali e utili al lettore. Tu nel libro ti occupi di alcuni film, insomma, alcuni saggi a tua firma, e anche qualcuno lo citi nell'introduzione, in particolare Fon, The Red Shoes, che appartengono a un particolare momento dell'horror sudcoreano, quello in cui veniva distribuito in Italia, ma potremmo dire non brillava certo per originalità, cioè nel senso che probabilmente arrivava in Italia sotto la considerazione, a causa della considerazione anche un po' razzista, se vogliamo, tanto si somigliano tutti quanti. Cioè arrivava sull'onda del successo del J-horror, dell'horror giapponese, di quello di Hong Kong, di Ai, dei fratelli Pang, The Ring, e i sudcoreani, però l'horror sudcoreano un po' ci marciava su questo, cioè dei personaggi simili alla protagonista di The Ring, con i capelli neri, i fantasmi, insomma, in qualche modo giocavano su questa sorta di similitudine, però è servito a farlo conoscere in maniera internazionalmente. È vero, perché poi tu prendi alcuni di questi film che non sono, come sottinteso, i migliori originati da quella parte di mondo, e tuttavia ci coglie dei caratteri tipici, ci coglie dei tratti in comune, ci coglie anche dei aspetti, come dire, da esportazione, che per uno spettatore magari non così avvezzo a conoscere quella cinematografia può aprire un varco, può aprire un interesse. Ad esempio Red Shoes è uno di questi esempi, perché non è sicuramente, a mia parere almeno, uno dei migliori film horror sudcoreani, tuttavia anche in un film così coglie elementi che sono trasversali e differenti rispetto, ad esempio, alla nostra cinematografia oro o alle abitudini dello spettatore occidentale. Questo anche a proposito di Fon, che è stato uno dei grandi successi che circa vent'anni fa, insomma, diede il via al cinema sudcoreano oro, alle classifiche, a portarlo in classifica ad alte vette, con un remake americano, qualcosa che poi si è ripetuto, e naturalmente entra in un'altra orbita, entra in un'altra dimensione e si appiattisce ancora di più appunto la rappresentazione. Ecco, dicevo, anche in questi film sicuramente, come dire, più di impatto commerciale, ma minori dal punto di vista proprio estetico, si colgono inquietudini, si colgono stilemi che conosciamo anche poco, se non attraverso quella cinematografia. che è una cinematografia, sì, di spettri, di fantasmi, di contaminazioni tra linguaggi, no? Pensiamo a come, ad esempio, il cartoon, a prendere una sua parte importante, come il cinema videogame, in un certo senso, non solo con Squid Game, ma anche con quello che arrivava prima, prende una dimensione caratteristica, con il cinema degli zombie completamente stravolto e riletto, con la presenza di virus che decendono, insomma, la datazione del Covid-19, che anzi ci aprono, come dire, e sottolineo quell'aspetto di dominazione, di possessione, che evidentemente in quella parte di mondo lì viene da lontano, viene cinematograficamente perlomeno negli anni 50 e 60, prima abbiamo citato uno dei collaboratori, il libro Andrea Amadori, poi vorrei citarli un po' tutti, Andrea Amadori, ad esempio, in un suo intervento ci parla di Housemaid, che appunto è un film di inizio anni 60, che poi viene, come dire, rifatto dallo stesso cinema coreano, perché il cinema coreano è un cinema che mantiene un legame con il proprio passato, per cui il nostro libro, che fondamentalmente si racconta, racconta, analizza momenti e firme dell'ultimo ventennio, poco di più, in realtà sottintende, sottolinea un rapporto con il passato, con il passato coreano, con l'antropologia di un paese dove i maggiori autori sono oggi, insomma, riconosciuti come autori totali, insomma, come autori to cure, se non autori totali, devo prendere anche un'altra declinazione. Poi ovviamente il successo è stato tale di avere una serie di forti consacrazioni, cominciare da Parasite, un film appunto che ha vinto qualunque premio, che fino a quel momento si sembrava non solo precluso per quella cinematografia, ma sembrava proprio impossibile che un film vincesse l'Oscar per il mio film e per il mio film straniero contemporaneamente. E così anche tutti gli altri premi in Europa. A tal punto da fare appunto una grande raccolta e per certi versi non distrarre l'attenzione dei contenuti del film, ma in un caso abbastanza singolare da unire l'attenzione critica alla celebrazione, qualcosa che non è sempre così scontata. È un cinema fortemente politico, tante volte perlomeno. Infatti Parasite in qualche modo si collega al remake di Housemaid, che Andrea pone le differenze, mentre nell'originale del 1960 il protagonista è un borghese che arranca nella vita, invece nel remake la dimensione di lotta di classe è molto accentuata tra ricchi e poveri, così come in Parasite. Esatto, esatto. Poi a proposito di Parasite, nel libro, così saluto anche un altro autore, Anton Giulio Mancino ci racconta appunto i rapporti tra Parasite e il cinema precedente, non solo sudcoreano, ma si va appunto dal tema del virus tanto conembergiano in un film seminale in questo senso, per arrivare invece poi a declinazioni anche più recenti, anche più europee, più nettamente europee. C'è una cosa nel saggio di Anton Giulio Mancino che mi ha colpito, l'accostamento di Parasite, perché in qualche modo fu una suggestione che anche io ebbi all'epoca, l'accostamento di Parasite alla commedia all'italiana, cosa che ritorna anche nel saggio su Train to Busan, perché il rapporto tra il padre e la figlia viene accostato a quello tra Ugo Tognazzi e il figlio, all'epoca interpretato da Ricky Tognazzi, in un famoso episodio dei mostri, il che appunto ci fa capire che la nostra commedia all'italiana ha avuto venature horror, non a caso, insomma, i personaggi tipici si chiamavano mostri. Come dire, togliendo l'aspetto mostruoso, non a caso, la citazione di una canzone di Gianni Morandi, insomma, del film Parasite, poi non solo in Parasite, ci sono elementi che ci possono far sorridere, perché troviamo una familiarità in situazioni anche in altro cinema, insomma, poi in fondo il riferimento è la commedia all'italiana, ma anche il cinema di genere italiano, Mario Bala, ad esempio, è uno degli autori amati da questi registri, anche Dario Argento, perché è citato più volte in, soprattutto film che non ti aspetti, tipo Inferno, sono film citati dai registri sul-coreani. Mi piace ricordare gli autori che hanno, come dire, valorizzato il libro, Fabio Cassano, Antonio Tentori, Antonio Pettier, Rudy Salgonini, Francesco Severio Marzaduni, Caterina Liverani, Fabio Zanello e Rita Ripucci, ciascuno impegnato con il suo sguardo su una parte di filmografia, Caterina Liverani che porta anche la sua esperienza del Florence Korea Film Festival di Firenze, che è un altro legame in più tra l'Italia e il cinema suttoreano. Oltre al benemerito fareste, insomma, che però riguarda un po' tutto il cinema orientale. Esatto, esatto. e in particolar modo un libro che si completa, finisce, come dire, lasciandoci un po' con degli interrogativi aperti, esistenziali aperti, perché poi un viaggio nel cinema su horror, sul coreano, ogni tanto mi dimentico horror perché per certi versi lo sguardo è di confine, esatto. c'è un interessante saggio di Rita Ricucci che è stata autrice di un libro edito da Falso Piano su un regista Kinky Doc che ritorna, come dire, a raccontarci il suo rapporto con questo importante regista che, come Bon Giunucolo, come altri registi, chiaramente non è identificato per essere appartenente a un genere, ma inevitabilmente con Kinky Doc l'aspetto horrorifico del suo sguardo e del rapporto tra i personaggi e la realtà è qualcosa che emerge e diventa davvero l'autore oltre e attraverso i generi. Anzi, vorrebbe dire che Kinky Doc è proprio un regista unico nella storia del cinema, talmente viscerale il rapporto tra lui e il cinema da darsi una dimensione come dire ontologica del rapporto tra il regista e la sua forma di espressione. Ecco, l'aspetto esistenziale, qualcosa che ricorre, ricorre anche nei film, come dire, più facili, più di successo, più facili, sempre tra virgolette. Pensiamo a un film come Alive, 2020, che esce nelle sale praticamente dalla pausa tra il primo grosso lockdown e successivi. In quelle settimane, nonostante appunto non siano molti le sale aperte, in Corea questo film ha subito un grande successo per poi ridoppiarlo più avanti quando uscirà su Netflix ed è un film, è una storia proprio di solitudine calata nel mondo giovanile dove il protagonista è un ragazzo che nel suo appartamento che appunto dà sul appunto sul cortile dove abitualmente vede la quotidianità, quindi una situazione un po' alla finestra del cortile si accorge di essere solo, la famiglia l'ha lasciata, ha lasciato un messaggio nella segreteria telefonica e da lì parte una riflessione sui mezzi di comunicazione che ovviamente demonizziamo ma che nel momento opportuno possono dimostrarsi ancora di salvezza per un personaggio che si accorde di essere solo in un mondo dominato da un virus che non è appunto soltanto il Covid-19 ma è un virus che trasforma in zombie le persone. Ecco, il retaggio va appunto a Train to Busan, tutta una filmografia che con gli zombie ha, come dire, ha sottolineato l'aspetto esemplare dell'orroro, cioè riportare in scena gli zombie, riportare in scena i vampiri, le figure sciamaniche, gli esorcismi come succede anche in un altro importante film quasi monumentale che è Gok Tsung, ebbene, riportare in scena questi prototipi che peraltro sono filtrati da una sensibilità molto particolare, molto esistenziale, quindi, che si affaccia sul mondo occidentale ma che porta qualcosa di appunto di intimo dentro, è qualcosa che ci fa vedere una filmografia che si autorizza come dire, davvero a andare avanti, a procedere, a portare nuovi temi, nuovi personaggi, nuovi protagonisti, a aprirsi costantemente alla serialità senza snobbarla. È un film come Alive con tanto di suffisso in stile Instagram che precede il nome Alive e è molto caratteristico in questo senso dove poi la solitudine del personaggio è come dire alleviata dalla presenza di una ragazza che fornisce il cibo attraverso una sorta di ponticello tra due balconi molto lontani l'una fornisce il cibo l'altro fornisce insomma la presenza umana che sembra debellata e fin poi è un inseguimento a tratti appunto gustoso a tratti appunto violento e forzato che omaggia sicuramente come nota anche il cinema europeo anche Giorgio Romero ma anche un tipo di videoconsumo che si apparenta ai videogiochi insomma quell'abitudine a combattere i mostri con i videogiochi è qualcosa che si sente anche in questo film che però ha una sua schiettezza una sua freschezza ecco qualcosa dove lo zombismo in qualche modo rappresenta l'anaffettività e quindi l'isolamento non a caso tu lo accosti con un film che horror non è che è Cast Way on the Moon dove l'isolamento dei due protagonisti è autoprocurato c'è il naufrago e c'è l'ikikomori esatto che è infatti un po' il messaggio tra le righe di questo film ci ritroviamo in una condizione così non a caso la famiglia scappa al primo allarme lasciando solo un personaggio che è costretto a tentare di sopravvivere con i mezzi che ha a disposizione una sorta poi di crescita che lo confronta con un vicino di casa apparentemente accogliente che poi si scopre avere in un angolo legata la moglie zombie a cui lui per amore diciamo cerca di procurare dei pasti ecco l'elemento melodrammatico lo troviamo anche in un film come Elive qualcosa che viene evidentemente molto da lontano quando si parla di melodrama si parla di pathos di identificazioni unico di personaggi la scelta anche degli attori qualcosa che in questo cinema è difficilmente casuale per lo meno c'è sempre il tentativo di utilizzare ottimi interpreti e molti di loro li conosciamo praticamente attraverso questi film poi ecco l'elemento di confine tra un genere e l'altro è qualcosa che è affrontato dal libro è affrontato ad esempio da Antonio Pettier Antonio Pettier che si occupa della trilogia della vendetta che non è specificatamente horror ma presenta dimensioni horror insomma infatti la dimensione autoriale in qualche modo di questi registi che pur amando loro tante volte cercano di essere identificati con esso se ci pensiamo a qualcosa che avvicina ad esempio un regista come Pasha Rook a David Cronoberg che da sempre insomma quando lo si mette a fianco con autori anche cult horror pensiamo a John Carpenter che a sua volta non è solo un regista horror questi accostamenti li sentono un po' stretti questi registi ciò nonostante forse si potrebbe dire che anche grazie a loro anche grazie a loro l'oro come dire assume e cresce in una dimensione che raccoglie molto più in termini autoriali l'aspetto esistenziale diciamo c'è un particolare la Corea del Sud è il terzo paese dell'intera Asia per presenza di cattolici e quindi in comune tra il melodramma e l'horror anche diciamo la presenza dei fantasmi vive molto del senso di colpa più che come nell'horror giapponese del rancore della vendetta spesso è dovuta appunto a questo senso di colpa ed è una cosa che si ha in comune con l'horror e anche con il genere non horror per tornare al saggio di PTR appunto la trilogia della vendetta gioca molto sul senso di colpa senso di colpa che è esatto è quasi è quasi sottinteso implicito ad esempio in un film come Gok Tsung la presenza del diavolo che è uscito poi in realtà col titolo americano The Wailing che appunto si ricollega non solo alla trilogia della vendetta ma come direi ai farsi di Train to Busan e lì va a accentuare proprio questo aspetto di una colpa strisciante latente che contamina un paesaggio dove succedono strane cose dove tra l'uomo e la donna c'è un rapporto molto di incomprensione un rapporto mantenuto a base di appunto di rapporti sessuali frenetici dove il personaggio tra l'altro è un goffo poliziotto che nel corso di questo lungo racconto cominciamo ad apprezzare sempre di più perché nelle sue bassezze lui è un personaggio autentico e fragile mentre tutto intorno a lui sembra non emergere dalla consapevolezza di una possessione demoniaca tavica ecco poi è un film che più che mostrare i mostri scusate il gioco di parole mostra proprio la paura come qualcosa di archetipico la paura che può essere uno sguardo spalancato che può essere una figura che ritroviamo in un bosco senza il sensazionalismo che avremmo potuto riconoscere in certi film di genere statunintensi anche indipendenti anche apprezzabili non siamo dalle parti del facile sensazionalismo perché davvero interessa questo tema quello della colpa quella della colpa strisciante che arriva al punto di autorizzare situazioni di sciamanesimo di esorcismo che che prendono un aspetto davvero inquietante come come forse non si vedeva da certo tempo dico degli anni settanta ottanta addirittura di certo cinema italiano ma proprio è un cinema ai confini con 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 la liceità dell'autorizzarsi certi rituali insomma una sorta di camera spill possiamo dire così un un melodramma horror anche impegnativo per essere capito e seguito perché siamo oltre le due ore e mezza di fluviale racconto un paesaggio abbandonato da Dio dove poi appunto ne succede di ogni cosa devo dire che il cinema sudcoreano ha questo questo appello all'impegno uno spettatore che che mica scherza quello del cinema sudcoreano pensiamo ai film di Kim Ki-Dak anche quando diventano fortemente metaforici il prigioniero coreano uno degli ultimi film della filmografia di questo importante regista che cos'è se non un film allegorico la presenza appunto di un di un pescatore che perdendo appunto il senso della direzione della corrente del fiume si ritrova come dire ogni volta vittime ogni volta intrappola tra la correa del sud e la correa del nord perdendo costantemente le radici ma soprattutto perdendo costantemente il diritto di difendersi e quindi come dire sembra che un discorso sul cinema sia un discorso inevitabilmente sulla sulla perdita dell'identità che passa attraverso violenze passa attraverso usurpazioni cancellazione dei diritti ecco questo perché la presenza un'altra delle caratteristiche comuni al cinema coreano mi viene in mente anche burning di Lichengdong dove c'è questo megafono che continua per inerzia nonostante la separazione a trasmettere i comunicati del regime della corea del nord lì al confine però la presenza del incombente di un paese vicino che è ancora sotto dittatura e che ha accomunato anche la corea del sud fino a qualche anno fa si sente ancora come come dice Anton Giulio Mancino in Parasite questa presenza sebbene non dichiarata però si sente dal fatto che in una casa c'è la necessità di avere un bunker sotterraneo come se si continuasse a temere la possibilità di un'invasione di una guerra ecco quindi nel nostro libro abbiamo cercato un po' di rintracciare degli aspetti che ci riportassero a uno sguardo antropologico quello degli autori che hai citato quelli che appunto i critici chiamati molto amichevolmente a dire da loro sul sul cinema coreano vanno vanno a rintracciare una base antropologica ma anche possiamo dire nel caso di alcuni autori molto significativa anche la presenza di modelli cinematografici questo per arrivare un po' anche al discorso del confine tra loro e i generi pensiamo a quanto appunto Antonio Pettieri nel suo stagio sul cinema di Park Chan-Wook in particolar modo sulla trilogia della vendetta ricordi come dire la formazione cinematografica di un regista che sino al recentissimo Decision to Live omaggia un cult di Alfred Hitchcock La donna che visse due volte Vertigo questo senso di di doppiezza di presenza di di altre figure da cui dipendiamo è qualcosa direi connaturato al cinema di Park Chan-Wook ma proprio a molta filmografia subcoreana allora pensando appunto a film non necessariamente i migliori appunto che sono venuti da quella filmografia vediamo che anche l'attenzione per gli oggetti come il phone come le scarpette rosse che che minacciano appunto morte sono oggetti ossessione che contengono un sguardo un universo un universo che rilaccia il singolo film opere del passato ma anche una visione che è tanto da vicini di casa Red Shoes a proposito è proprio un film slabbrato un film anche abbastanza confuso e vogliamo dire così pasticciato tuttavia anche lì ci sono ci sono le ossessioni quotidiane i personaggi questa protagonista è appunto è una persona abituata a curare lo sguardo a curare gli occhi degli altri ha una collezione di calzature lussuose che poi finiranno per essere parte della sua tragica avventura come raccontata nel film ecco mi sembra un cinema che ha un forte valore di risonanza rispetto ai motivi ed inquietudini anche della cultura del proprio paese cultura oserei dire più antica che va al di là naturalmente della nostra selezione dell'ultimo ventennio insomma che riporta all'inizio del secolo scorso ci riporta perlomeno gli anni 50-60 del secolo scorso ci riporta a una dimensione in cui il cinema era quasi come oggi era già uno salto di laboratorio non concepito come tale ma pensiamo a come i giovani autori insultoreali tanto spesso vogliono fare horror e lo fanno oppure fanno film intimisti fanno film sentimentali ecco questi due aspetti vanno come dire singolarmente a braccetto ad esempio il registro di Gok Tsung esordisce proprio con un film intimista sulla fragilità di una relazione di coppia e poi ti realizza un affresco visionario sullo scemanesimo sugli esorcismi sulla possessione in un paese che sembra davvero un paese un po' marziano un po' lontano da noi ma in realtà non è così lontano dato il successo di questi film dato la curiosità incessante che appunto manifestano e lui viene poi anche da un affresco epico come The Yellow Sea e precedentemente una caccia al serial killer che ricorda un po' Memory of Murders che è The Chaser forse il suo film migliore da me è preferito anche a Goksung perché è davvero tesissimo anche lì la dimensione horror è sempre presente nella casa invasa nel buio perenne in cui si svolge l'azione poi c'è un'altra un'ultima un'ultima cosa che nel primo saggio che Fabio Cassano dedica a una sorta di saga antologica perché ogni film è indipendente dall'altro ma ha in comune l'ambientazione in un collegio che in qualche modo rappresenta si tratta della saga di Whispering Corridors dove la scuola è un po' la sineddo del regime dove si manifestano in forma metaforica i soprusi le storture di quello che è un regime attraverso anche il bullismo quindi non solo in una dimensione un po' come poi succederà in Parasite non solo in una dimensione verticale tra dirigenti e sottoposti ma anche in una dimensione orizzontale quindi già come in Parasite poi a un certo punto la guerra tra ricchi e poveri diventa anche la guerra tra poveri cioè tra le due famiglie anche in questa saga la guerra diventa non tanto tra i professori i dirigenti scolastici e le allieve ma anche tra allieve assolutamente dando origine a una saga davvero appassionante che Fabio Cassano nel suo saggio approfondito ripercorre una saga che abbiamo voluto mettere in apertura del libro per la sua importanza per la sua rilevanza perché merita anche di essere rivista e perché accento questo aspetto di conflittualità dal basso per così dire tra le allieve di un college come dicevi giustamente dall'aspetto marziale quasi concentrazionario tolgo il quasi in alcuni momenti della saga che come dire rilancia la contemporaneità di un tema politico che diventa magari assoluto più metaforico e trasversale in Kinky Doc perché fondamentalmente il libro inizia con la saga di Whispering Corridors e si conclude con i labirinti della mente e della psiche di Kinky Doc che più o meno nello stesso periodo forse un pochino dopo ci diede a Kink come Pietà e Emebius che erano appunto espressione come Whispering Corridors di una stretta compenetrazione tra dimensione etica e riflessione estetica infatti quello che sorprende di questo cinema in buona ragione è proprio questo tratto di unione molto forte tra un'esigenza esistenziale e la capacità tante volte come Whispering Corridors come nei migliori film di Kinky Doc di realizzare un'estetica segno unica che ci ricordiamo che diventa espressione di luoghi in cui si respira infelicità e per capire quella realtà è evidentemente necessario avere come una griglia simbolica che questi film ci aiutano ci regalano fondamentalmente quindi come dire è un cinema horror fortemente metaforico ma sentito fortemente come dimensione necessaria per comunicare questi rapporti rapporti che ci portiamo dietro e che tante volte sono quasi imbarazzanti nella franchezza con cui questi autori ce li mostrano bullismo rivalità impietosa ecco fondamentalmente si potrebbe poi credo un po' utilizzare il nostro libro che si intitola Corea Shock quindi con un titolo molto forte per entrare dentro questi labirinti della mente e delle forme di espressione che caratterizzano la Corea del Sud io ringrazio Roberto Lasagna per essere intervenuto ricordiamo che Corea Shock è edito dalle edizioni Profondo Rosso unesimo legame a Dario Argento quindi visto i tanti rimandi che sono stati individuati e ci vediamo alla prossima volta grazie Roberto grazie Rosario cari amici di Primeveco M a presto grazie a tutti